Musica 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 Ospedale di Terni, dopo un anno di lavoro, il direttore generale Casciari fa il punto della situazione. Sono aumentate le prestazioni di eccellenza, sono diminuiti i tempi d'attesa al pronto soccorso. Sei condanne e una assoluzione dopo dieci anni. È arrivata così la sentenza per i maltrattamenti nella casa di riposo Villa Maria Luisa a Terni. Un anno fa a Benevento c'è stata l'ultima vittoria in trasferta della Ternana. Sabato prossimo, contro il Brescia, esordio di un nuovo sponsor. Bentrovati a una nuova edizione del notiziario di AM Terni Television. Un netto miglioramento sia per quanto riguarda la riduzione dei tempi d'attesa per il pronto soccorso e per gli interventi chirurgici, sia per quanto riguarda il valore aziendale. Si chiude quindi con un segno più il bilancio dei primi mesi del 2023 per l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Facciamo il punto nel primo servizio. Il punto che abbiamo fatto oggi sull'ospedale di Terni, un anno dal mio insediamento, dimostra praticamente come c'è stato un forte incremento della produzione, un miglioramento dei costi e gli indici di qualità dell'ospedale sono tutti in miglioramento. Questo è un dato estremamente significativo e importante perché rappresenta la capacità attrattiva sia regionale che extra-regionale che ha ripreso l'ospedale di Terni. Sono ottimi i risultati del bilancio dei primi otto mesi del 2023 per l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Diminuzione sensibile dei tempi di attesa al pronto soccorso e nell'erogazione degli interventi chirurgici, un valore più alto delle prestazioni in termini di eccellenza e filtri più efficaci per i ricoveri. Tutte le voci sono in netto miglioramento, tuttavia la strada è ancora lunga. Ci sono pure gli interventi da assicurare in collegamento per esempio in quest'area con Narni, rispetto a una serie di interventi chirurgici e anche medici, che consentano evidentemente di avere una vera e propria rete fra Narni, struttura in cui il livello di complessità degli interventi debba essere minore, e il DEA di secondo livello, cioè Terni, in cui il livello di complessità degli interventi da garantire deve essere maggiore. L'ospedale di Narni è destinato a diventare uno spin-off di quello Ternano e ci sarà un unico coordinamento delle due strutture. In questo modo aumenterà l'efficienza dei servizi e la sinergia che si verrà a creare consentirà anche di migliorare i servizi offerti. Su questo argomento è intervenuto il capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia, Francesco Maria Ferranti. Sentiamo. Saluto con soddisfazione la scelta della Giunta regionale dell'Umbria, che tra l'altro negli ultimi tempi è fortemente sollecitato come capogruppo di Forza Italia a Terni, che è quella di affrontare nell'immediato, quindi in attesa che parta il cantiere del nuovo ospedale, dibattito aperto ormai da due anni, ma nell'immediato c'è il problema della carenza del personale all'interno dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Questo perché è un'azienda attrattiva grazie all'alta professionalità e qualità dei professionisti che vi operano nei vari reparti. Per fare fronte a questa criticità del personale, si è scelto di portare l'ospedale di Narnia Maria sotto il controllo strategico dell'azienda ospedaliera di Terni, sotto un unico coordinamento per efficientare i servizi. Allo stesso modo si andrà a fare una verifica di quali sono le strutture sanitarie del territorio con poche utenze, perché laddove ci sono poche utenze, senza regare danno a quelle strutture, si potranno reperire risorse umane da trasferire temporaneamente nel servizio dell'azienda ospedaliera di Terni. In questo modo si potrà affrontare immediatamente, cioè già da domani, il problema della criticità del personale, che è il problema più grave che vive oggi la nostra sanità. Apriamo adesso la pagina di Cronaca. Denunciati quattro stranieri e segnalato un minore di appena dieci anni alla Procura per i minorenni in relazione a dei furti avvenuti in tempi diversi ai danni del centro commerciale di Pesciarelli nei pressi di Magione. In un caso in particolare si è trattato di furto di generi alimentari dal valore di oltre 200 euro e la dinamica ricostruita grazie alle telecamere di sorveglianza ha visto all'opera due genitori che si sono avvassi anche del figlio minorenne di appena dieci anni che ha spinto il carrello pieno di prodotti alimentari fino all'uscita del centro commerciale. Un 26enne è stato denunciato per furto aggravato. Il ragazzo è stato individuato al termine di un'operazione che è durata alcuni mesi. Il furto risale infatti allo scorso maggio quando un giovane ternano, mentre si trovava nel centro città, ha subito il furto dello zaino che conteneva il portafoglio con documenti, circa 100 euro, 120 euro in contanti e altri oggetti personali. I carabinieri esaminando i filmati delle telecamere presenti in città hanno individuato l'autore proprio nel momento in cui lo commetteva e lo hanno quindi identificato anche grazie alle testimonianze di alcuni presenti sul luogo. Si tratta appunto di un 26enne romeno residente nell'Interland Ternano che si trova già in carcere per reati contro il patrimonio. Sei condanne e una assoluzione. Ci sono voluti dieci anni, ma alla fine la sentenza per i maltrattamenti nella casa di riposo Villa Maria Luisa è giunta e non è stata certamente una condanna tenera. Oltre 30 anni complessivi per sei persone, tra le quali la titolare della casa di riposo. Vediamo i particolari. Ci sono voluti dieci anni di indagini prima e udienze poi, ma alla fine la sentenza in merito ai maltrattamenti sugli anziani ospiti nella casa di riposo Villa Maria Luisa è arrivata ed è stata anche pesante. Condannati sei degli imputati per concorso nei maltrattamenti degli anziani ospiti è una sola assoluzione. Altri tre imputati sono deceduti durante l'infinito processo, processo che si è chiuso ieri alla presenza dei familiari di tre anziani ospiti che non ci sono più e che si erano costituiti parte civile. Condannate a sei anni di carcere, Maria Luisa Massoli, una delle proprietarie della struttura, e Doretta Perreca, ex foca e presidente della cooperativa che operava all'interno della struttura. Cinque anni di carcere per Giancarlo Chiari, ex direttore sanitario. Quattro anni e sei mesi per Sandro Vitali, uno dei proprietari della casa di riposo e quattro anni attessa per l'infermiera Domenica Galati e l'operatrice socio-sanitaria Tiziana Veltri. Il giudice ha invece assolto l'operatrice socio-sanitaria Tonica Monteano. Nella struttura, ricordiamo, sequestrata nel 2013, quando furono arrestati sei persone, ci furono una raffica di denunce che parlavano di ospiti lavati con l'acqua fredda alle 5 del mattino. Dovevano poi mangiare pasti avanzati e riciclati, restare con la pipì addosso per ore, prendere farmaci scaduti. I maltrattamenti, l'incuria, le forme ripetute di vessazione verso gli anziani ospiti, alcune dei quali, affetti da Alzheimer, stando a quanto emerso durante l'infinito processo, erano sistematiche e provate. La polizia di Foligno ha arrestato un 24enne che nei pressi di una discoteca della città è stato trovato in possesso di numerose dosi di droga. Il giovane, infatti, aveva 18 involucri di MDMA, 4 di hashish, un involucro con 91 confezioni di carta contenenti in tutto circa 60 grammi di chetamina, 22 pasticchie di ecstasy, 220 euro in contanti. Presso l'abitazione del 24enne invece è stato trovato materiale per confezionare le dosi da spacciare e il giovane, dopo l'arresto, è stato tradotto nel carcere di Spoleto. Il Mondiale di Scherma Paralimpica è andato in archivio tra applausi, record italiani e anche qualche polemica politica. L'evento ha comunque richiamato in città 250 atleti in rappresentanza di ben 31 paesi, una grande vetrina per Terni. Come ne è uscita la città? Lo abbiamo chiesto al delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, Tommaso Strinati. Sentiamo. Il Mondiale di Scherma Paralimpica è ormai terminato. Terni, come ne è uscita? Terni, diciamo, molto bene, perché era pronta ad ospitare questo evento che il Circolo Scherma stava preparando da ben due anni, quindi, diciamo, anche la federazione ha dato il suo supporto nel creare questo evento. anche, appunto, il presidente Alberto Di Berri ha fatto di tutto, insomma, per aprire il palazzetto. Il nuovo palazzetto, che era molto recettivo e molto grande per ospitare questo tipo di evento. Infatti, gli stessi atleti mondiali sono rimasti, diciamo, anche affascinati dalla struttura che l'ha ospitati. Quindi, per la nostra città, credo che sia un banto avere queste possibilità. E questo, naturalmente, deve essere colto anche come opportunità, sia anche per l'amministrazione, per fare nuovi eventi e dare lustro alla nostra città. Possiamo dire, dunque, che Terni è una città inclusiva. Sì, possiamo dire che Terni è una città inclusiva. Sì, è una città inclusiva, ma abbiamo ancora molto da lavorare perché, naturalmente, non parliamo solo di disabilità motorie come accade, appunto, nella scherma, ma ci dobbiamo un po' ampliare e pensare un po' a tutti i tipi di disabilità, concepire anche la disabilità non come un fattore esterno che non riguarda la normale condizione umana che, invece, purtroppo è variabile nel tempo e qualunque tipo di persona può acquisire una disabilità. E per questo dobbiamo far sì che, diciamo, tutto il nostro territorio sia capace di ospitare questo tipo di diversità. Parliamo adesso di una iniziativa del Movimento 5 Stelle sul tema della desertificazione bancaria, situazione che si riverbera sulla vivibilità dei piccoli borghi, sempre più a rischio spopolamento per la mancanza di servizi essenziali, soprattutto ai danni delle persone più anziane. Facciamo il punto nel servizio. Un problema che sta pian piano diventando emergenza. Parliamo del fenomeno della chiusura delle filiali degli istituti di credito e che sta portando a una crescente desertificazione dei servizi bancari in tutta la nostra regione. In questa ottica, il Movimento 5 Stelle ha raccolto l'appello della Fabi, il principale sindacato del settore bancario, e si è fatto promotore per la convocazione, in tempi rapidi, della Conferenza regionale dell'economia e del lavoro, incentrata proprio sul tema della desertificazione bancaria. Continuano a chiudere filiali bancarie non solo nelle aree interni, ma anche nelle grandi città. Questo vuol dire meno servizi per i cittadini, per fare impresa, ma anche per poter accedere a un prestito, a un mutuo. E' una situazione che grava ulteriormente su quello che è una mancanza di opportunità, che è la vera ragione della decrescita demografica della nostra regione. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo accolto la richiesta di Fabi di convocare una conferenza regionale sull'economia e sul lavoro dedicata alla desertificazione bancaria. Lo chiederemo all'interno della conferenza di gruppo che maggioranza e opposizione si facciano carico e accolgano questa richiesta, perché non c'è più tempo da perdere. L'Umbria deve essere salvata adesso con un intervento deciso anche su questa situazione che è estremamente grave per tutti noi. Il problema investe non solo i clienti anziani e meno tecnologicamente competenti, che potrebbero dipendere fortemente dalle filiali bancarie, ma potrebbe avere un effetto devastante anche sulle nostre comunità locali, soprattutto i borghi e le aree rurali della nostra regione, che potrebbero vedere accelerato il fenomeno relativo allo spopolamento. E in arrivo mezzo milione di investimenti per i centri di Nera Montoro, Montoro, Itieli e Vigne, lo annuncia l'amministrazione comunale di Narni, che sottolinea come le risorse provengano dal PNRR e siano finalizzate alla riqualificazione edilizia ed energetica di questi borghi e alla messa in sicurezza sismica di fabbricati di proprietà del Comune di Narni, affidati adesso in gestione a diverse tipologie di associazioni che operano nel settore dell'aggregazione. A Terni è iniziata la Digital Week, una settimana all'insegna dell'innovazione digitale. Si tratta della quinta edizione della Kermess che avrà il suo clou sabato e domenica. Vediamo cosa c'è in programma. È iniziata la quinta edizione dell'Aterni Digital Week. Intelligenza artificiale, comunicazione, marketing, social media, metaverso, chat, GPT, robotica e e-sports. Sono soltanto alcuni dei temi che verranno affrontati fino a domenica tra incontri di alto livello formativo, workshop e meeting. Le giornate calde sono quelle di sabato e domenica con due grandi eventi. Ci sarà una giornata dedicata agli e-sports, quindi orientata ovviamente ai più giovani che avranno la possibilità di utilizzare delle strumentazioni legate al mondo del gaming e sfidare anche un giocatore professionista. E la domenica in Piazza della Repubblica, proprio per avvicinare la cittadinanza al digitale, abbiamo deciso di organizzare una giornata dedicata alla robotica. Quindi ci saranno dei robot che faranno delle dimostrazioni in piazza. e questo sarà un momento molto simpatico, molto bello, proprio per avvicinare anche chi magari vede il digitale in modo non positivo e soprattutto per la nostra mission che è quella della divulgazione della cultura digitale a tutti, cittadini, imprese, enti e terzo settore. Terni Digital Week si configura ad oggi tra i principali eventi nazionali con l'obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione e nelle imprese, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del sistema paese. Come assessorato ci crediamo moltissimo come ci credono coloro che l'hanno realizzata questa importante iniziativa, perché dall'Umbria e da Terni si deve diffondere in maniera virale. Io mi auguro questo, perché le tematiche trattate sono davvero di grande rilevanza e anche gli interventi che vengono fatti vengono curati proprio per essere diciamo recepiti anche da un pubblico più giovane. Durante la settimana digitale, come ogni anno, saranno assegnati quattro premi dedicati all'innovazione ad altrettanti professionisti in ambito digitale che si sono contraddistinti per attività di divulgazione della cultura digitale e per i progetti. E ancora in tema di iniziative culturali è iniziato a Terni il Terni Outdoor Fest, festival di promozione del territorio. Siamo andati a sentire cosa ne pensa chi ha partecipato alla prima giornata di eventi. Sentiamo. Al via il Terni Outdoor Fest alla Cascata delle Marmore tra polemiche, problematiche e un programma fantasma. Il calendario dell'evento è venuto fuori solamente il giorno prima del taglio del nastro. Siamo andati a sentire quanti hanno preso parte al trekking organizzato a Belvedere Superiore. Oggi faremo un percorso che tocca tutti e sei sentieri che sono all'interno del Parco della Cascata delle Marmore quindi una visita completa della cascata. Andremo quindi a scoprire tutti i punti più belli e anche più nascosti che ci sono alla Cascata delle Marmore. Quanto ha saputo prima il percorso che doveva effettuare? Allora, noi questo tipo di percorso lo facciamo molte volte e questo abbiamo saputo pochi giorni fa ma siccome è un percorso che svolgiamo in maniera assidua siamo più che preparati a praticarlo. Quanti siete? Al momento siamo 15 persone. Quando ha deciso di prendere parte al trekking organizzato per oggi? Ieri pomeriggio stesso ieri pomeriggio perché Sebastiano via WhatsApp ci ha informato di questa iniziativa del weekend e ecco c'era anche questa passeggiata un po' in una giornata feriale un po' difficile da partecipare però siamo riuscite con molto piacere visto anche il tempo bellissimo e questo clima estivo. Però su sito barra pagina di Facebook non aveva letto niente di questo evento che si sarebbe svolto? No, ma probabilmente è negligenza mia non ho guardato insomma non lo seguo molto il sito. Concludiamo così questa edizione del notiziario di AM Eterni Television grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!